Ragazzi, si parte! Corriamoci! Avanti, avanti! Oggi è il futuro! Avanti, avanti! Allora, andiamo! Mandorle e zucchero, fiocco su fiocco, io non resisto! Nick Lang è l'attore più famoso del momento. Polizia! John Moss è il prototipo del vero poliziotto. Voglio passare due settimane con quest'uomo! Voglio mangiare, dormire, respirare con John Moss! Insieme formano una coppia davvero strepitosa. Dove è a casa, no? È stata una brutta giornata. Michael J. Fox. Fermi tutti! Ti attieni arresto! James Woods. Quanto l'odio quello! Insieme, per forza. Venerdì alle 20.30 su Italia 1. Toglietemi tutto, ma non il mio breve. You gotta be gentle, you gotta be stronger. Rocchetta blu. Brio e leggerezza, finalmente insieme. È sale? Sì, è sale. Ma scende. Sale e scende. Sale nel naso. E scende nella gola. Golia Active Plus senza zucchero. La prima caramella che ha i principi attivi dell'eucaliptolo unisce un ripieno di vero sciroppo balsamico, che sale a liberare il naso e scende a dare benessere alla gola. Sale! E scende. Golia Active Plus, la caramella ripiena di sciroppo balsamico senza zucchero, anche nel gusto forest fruit. Ehi! Ma non sai come fa il cagnolino? E la gallina? Coccodè, 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 coccodè. E il cavallo? Per sottrarre i cuccioli d'uomo ha inutili sofferenze. Basta regalargli le lavagnette Fun and Sound Clementone. Cerca la papera. Sono divertenti. Cerca gli animali che usano. E fanno tanto bene all'intelligenza. Da sapientino, le lavagnette parlanti Fun and Sound. Sono giochi clementoni. Liga Pue. Buon compleanno Elvis. Liga Pue. Buon compleanno Elvis. Musica che ti colpisce al cuore. F10 Malaguti è più che uno scooter. È un'idea. Guarda che linea. Doppio faro. Ruote larghe. Freno a disco. È un sogno. Mmm, potessi averlo. Che sogno, che sogno. Sveglia, sveglia. Ma ce l'hai proprio scritto in fronte, eh? F10 Malaguti. Idea fissa. Che negozio è? Non saprei. Bello. Che meraviglia. Già decorato. Sono 54.900. Qui siamo alla standa. Standa? Scopri il mondo sotto casa. Oh, l'insegna non è cambiata. Toccade de Rochasse Soprattutto Fernet Branca Multimediale, interattivo? Ma come si fa? Non so. È per collegarsi ad internet. Ma quello che devi sapere sul tuo computer non è dentro il computer. È su Clicke. Clicke per fare, capire, scegliere, vivere con il computer. Clicke in ericola sulle 4.000 lire. Clicke.